Il giulone di ritorno si apre con la trasferta di Taranto. Due grossolane in decisioni difensive danno via libera ai pugliesi che passano prima in vantaggio con Pietro Maiellaro, passato al Taranto dal Palermo. Su un'analoga indecisione difensiva che passa tra i piedi di Napoli, Cei e Bellopede nasce anche il secondo gol che mette a segno Paolucci. Per ricordare che Taranto e Messina erano le due protagoniste di quel campionato, soltanto un punto divise le due compagine al termine del torneo. In quella gara al Messina non restava altro da fare che accorciare le distanze con il solito gioco.